Come era prevedibile, non si è presentato nessuno questa mattina al Consiglio Comunale di Isernia, convocato ad urgenza per approvare la convenzione con il Comune di Campodipietra per il contratto di sviluppo. Il sindaco d'Apollonio ci riprova domani pomeriggio alle 17 in seconda convocazione, a numero ridotto quindi, per deliberare la convenzione con il Comune di Campodipietra sul CIS, il contratto istituzionale di sviluppo, per il progetto da 129 milioni di euro sui tratturi. Un provvedimento urgente da approvare vista la prossima scadenza del finanziamento fissato al 15 agosto. In ballo per Isernia svariati milioni di euro rientranti nel progetto che vedrà la realizzazione di un'ippovia e di piste ciclabili e pedonali per rendere percorribili gli oltre 350 km di autostrade verdi che attraversano la Regione. Consiglieri richiamati dalle ferie quindi per portare a compimento tutti gli atti necessari. Due punti all'ordine del giorno. In agenda ci sarà anche la mozione del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Mino Bottiglieri, sull'ampliamento del cimitero comunale, con la quale si punta ad annullare in autotutela tutti gli atti del relativo project financing.